ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di crisabo il canale per chi è nabbo oggi signori siamo di nuovo qui su PES 2017 e sì in questi due giorni che sono passati io mi ero registrato i video precedentemente in modo da fare un sabato e domenica dedicato esclusivamente a fare GP ovvero fare la coppa challenge contro com novellino sempre solo quella cercando di fare il più GP possibili siamo arrivati a 151.000 GP ragazzi e con il gioco che ci ha regalato un giro bonus di agente è come se avessimo 160.000 GP quindi in teoria è come se potessimo fare 16 giri di agente è il classico e noi oggi andiamo a farcelo sicuramente se dovessi fare tutto in un video uscirebbe un video troppo lungo e la gente non se lo guarderebbe fino alla fine quindi diciamo che oggi ci facciamo 8 giri di agente vediamo cosa ne esce fuori ci diamo appuntamento a domani e facciamo 8 giri di agente anche domani così magari ci darà qualcosa di meglio come potete vedere signori oggi sono con la magliettina del barcellona originale ronaldinho signori perché oggi è lui che andremo a cercare sperando di trovarlo o ronaldinho oppure di prenderci la nostra tanto cara amata punta che ci serve tutti pensano al ronaldo il fenomeno che ci sta benissimo però io ho riguardato diciamo anche chi c'era in lista e anche terry henry non ci farebbe affatto schifo non ci farebbe affatto schifo terry henry quindi oltre a parte che non smetteremo di provare a cercare giocatori finché non prenderemo il nostro cr7 noi vogliamo cr7 nei commenti scrivete hashtag cr7 per chris ok allora ragazzi dai diciamo che partiamo subito come potete vedere trattativi ancora una volta e va bene si facciamocelo in poche parole ci sono una novantina un cento e passa giocatori ecco 107 giocatori noi ne possiamo prendere 16 sperando che ci vada bene quindi ci facciamo 8 giri di agente e vediamo cosa riusciamo a trovare in questo episodio andiamo andiamo partiamo subito partiamo sì voglio ingaggiare il giocatore vai quando schiacciamo il problema è solo quello schiacciamo adesso vai e oggi è argentone argentone chi sei salve odegard salve 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 tutto a posto bello dio aumento abilità gestionali si hanno dato il signore nostro vorrebbe e andiamo a farci il secondo giro paga con gp 151.000 gp in due giorni e gli ho spesi anche per prendersi un allenatore nuovo questo volevo dirlo no 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 torna indietro torna indietro maledetto era lì era lì chi è salve cazzares martin cazzares e beh è lui lo conosciamo intanto gli aggiungiamo tutti i membri my club vai con un altro giro il terzo è il terzo vogliamo un pallone nero vogliamo un pallone nero non ci sono cazzo che invece è argento oggi è la giornata degli agenti degli agenti bueno kinder ahahahahah ho lasciato bueno mi scrive bueno no bueno no bueno ok vai 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 un pallone nero ci deve uscire per forza eh ci deve uscire per forza ghiaccia non è possibile tutti gli agenti Juanfran eh salve ma chi se ne frega vai vai ancora vai ancora vai che ci siamo vai che ci siamo non può finire così non può finire così è ora è ora è ora è già qualcosa il primo oro della giornata chi è potrebbe essere proprio lui eh sì essi deburre il fratellino di franchi fratellino di franchi colato 80 trequartista 80 potremmo fare l'accoppiata vincente come i fratelli quelli che allenamento tattico come i fratelli di Olly e Benji quelli che giocavano no? si vabbè c'è alla facciamoci un altro giro dai dai vogliamo una palla nera oggi una palla nera dai dacci una punta una punta coi cazzi dai argento chi è? nacio 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 difensore centrale 77 si si va bene ma chi se ne frega dai dai dacci uno forte dacci uno forte dacci Ronaldinho Ronaldinho con la magliettina ma anche la maglietta porta fortuna non mi vuoi dare Ronaldinho sei una merda se non mi vuoi dare Ronaldinho guarda in mezzo a tutte e agli agenti noi andiamo sull'argento vabbè attenzione Antonio Cassano seconda punta beh si ha giocato a Real Madrid quando faceva limitazione di cappella aumento abilità gestionali però vedi con gli argenti perché chiamo più aumento abilità gestionali quindi da una parte è brutto perché sono argenti ma dall'altra a noi non ce ne dà mai aumento abilità gestionale non ce ne dà mai 7,3 bella palla nera e dai facci fare un ultimo giro cazzuto facci fare un ultimo giro cazzuto il dilemma è sempre quello quando schiacciare sempre l'argento sempre e solo l'argento sempre e solo l'argento e ci becchiamo anche un portiere ma chi sei Adam Salve aggiungi a me prima il club certo ma sì ma dai arriviamo a 10 giri ma chi se ne frega vai vaga con GP un pallone nero e dai almeno uno schiaccia subito e oro e oro va bene lo stesso siamo sull'ottantina da 80 a 85 chi è soldato punta 80 va bene va bene si dai va bene va bene aggiungi a membri ancora ancora dai dai ma che cos'è non si può vedere e adesso no era lì a fianco si si è tornato indietro è tornato indietro è tornato indietro chi è Messi non è possibile Lionel Messi e lui ha portato bene la magliettina del Barcellona ha portato bene la magliettina Ronaldinho del Barcellona va bene va bene signori va bene direi che possiamo chiudere in bellezza ragazzi Lionel Messi ho detto Lionel prima non lo so ero troppo infogato nel momento guardalo lì con la barbetta rosa con i capelli gialli ma chi sei ma chi sei sei quello che spaccherà dei culi signori è quello che spaccherà dei culi forse forse va bene sono contento sono finalmente giocatore forte se era Ronaldo ci avrebbe fatto molto molto più piacere e adesso naturalmente gli andremo a fare una bella foto e la faremo vedere al nostro amico Enzo su Facebook che taglia taglia va bene va bene sono contento sono molto contento io signori non lo so possiamo dire che oggi ci è andata bene io sono contento ragazzi non so neanche sto farfugliando probabilmente perché è il primo giocatore potentissimo che troviamo il più potente era Bade cioè abbiamo Bade e va bene è Bade è Bade non ti dico di no però Bade l'abbiamo scelto nel tutorial iniziale non è che ce l'ha dato così l'abbiamo scelto nel tutorial iniziale e va bene va bene sono contento ragazzi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi sempre sul canale per chi è Nappo con PES 2017 alla ricerca di Ronaldo Ibrahimovic Ronaldinho Messi che abbiamo trovato e tanti tanti altri io signori vi do appuntamento domani con un nuovo video probabilmente domani ci faremo gli ultimi giri di GP e ci andremo a fare una partita così per provare la squadra che non fa mai schifo no quindi signori vi saluto e vi ringrazio ancora se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale ricordatevi e niente ragazzi ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi ciao ragazzi a presto Grazie a tutti.